Immobili, auto, disponibilità finanziarie ed un'azienda agricola specializzata anche nella coltivazione di cereali. Un patrimonio milionario, quello sequestrato dagli uomini della direzione investigativa antimafia di Bari, al 48enne pluripregiudicato andriese Vincenzo De Biceglie. L'uomo è stato coinvolto fin dagli inizi degli anni 90 in numerose indagini relative ad una serie di furti e rapine messe a segno anche nel Nord Italia. Nel giugno del 2018 è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza nell'ambito dell'operazione denominata Odissea Bancomat per aver assaltato lo sportello ATM della Biperbanca di Rionero in Vulture, nel Potentino. In quell'occasione il distributore automatico venne fatto esplodere con un ordigno artigianale che provocò numerosi danni al fine di portare via un'ingente somma di denaro. Il provvedimento di sequestro, emesso in base alla normativa antimafia del Tribunale di Bari ed eseguito con la collaborazione dei carabinieri di Andri e Minervino Murge, è scattato a seguito degli accertamenti patrimoniali della DIA nei confronti del 48enne e del suo nucleo familiare. Pur dichiarando redditi spesso al di sotto della soglia di sopravvivenza, il pregiudicato avrebbe infatti effettuato investimenti assolutamente sproporzionati con capitali ritenuti dagli investigatori di provenienza illecita. Tra i beni sequestrati si contano 48 unità immobiliari per lo più a pezzamenti di terreno seminativi, autovetture, disponibilità finanziarie ed un'azienda agricola zootecnica operante anche nella coltivazione cerealicola per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.